Chiusa l'edizione 2018 della settimana del libro che a marzo ha visto compiersi a gubbio la 27esima edizione sul tema di leggere e scrivere al tempo del selvaggio web, l'associazione che la organizza si è già messa al lavoro per l'anno 2019, scegliendo un tema di stretta attualità. Per presentarlo ha tenuto presso la biblioteca sperelliana un'anteprima introdotta da Maria Clara Pascolini. Siamo con un'iniziativa della settimana del libro, anzi è l'anteprima del programma dell'anno prossimo. Quest'anno abbiamo avuto come riflessione il tema leggere e scrivere al tempo del selvaggio web e l'anno prossimo il nostro tema sarà i barbari. Chi sono? Siamo noi? Sono gli altri che ci fanno paura? Ospite ieri pomeriggio dell'iniziativa è il grecista Aldo Paolo Bottino, filologo specializzato in critica omerica, che svolge la sua attività di ricerca al Center for Hellenic Studies, con sede negli Stati Uniti. Al centro del dibattito il tema le baccanti di Euripide, ovvero Dioniso, lo straniero alle porte. All'interno della settimana del libro parleremo delle baccanti di Euripide e faremo riferimento soprattutto al tema dello straniero e della possibile, eventuale, benché magari pericolosa integrazione di questo straniero all'interno della polis. E quindi svilupperemo soprattutto questo discorso in relazione non solo al testo euripideo, ma anche a tutto ciò che lo precede a livello mitico e che lo segue come necessario sviluppo letterario e non.